ok buongiorno buona domenica vi faccio la diretta perché non mi piaceva come ho pulsato buon falcone meno 8 gradi sono il maestro tito nut che mi ha chiamato mi manda i saluti anche a voi ora sto poi fuori dalla chiesa che sto aspettando arriva il maestro gandoni grande persona li voglio bene come un fratello meno male che c'è lui perché non lo rispetta perché sennò veramente sarebbe tragico e che dire come dico sempre sono qui sono fuori adesso mi sono ben vestito sono un po stanchino ma di schiena ma tutto passa speriamo domenica in arrivo dietro l'angolo mi ha già detto guarda troppo fuori io mi raccomando fai bravo eh saluto tiziana soltanto nella nardini monica colauti saluto che è una bellissima produttrice che vedete i post nel mio canale nella mia pagina youtube nella mia pagina di facebook se volete notizie di più scrivetemi io vi iscriverò in privato l'indirizzo dove trovarla numero di telefono prima avviso che voi l'accertate altro e che dire altro niente fa freddo passato per nella linea storica potrebbe essere un bella fermata anche qui che così tira su di alle sarebbe che gira anche tutte le chiede invece c'è il luogo perché purtroppo è altra pedonale il resto potrebbe tutto il momento ancora in piedi e si vede fate fate i bravi fate bene fate mangiare il buono io ho qualcosa già pronto spero bene fate i bravi vi voglio bene mi raccomando fate i bravi e bocca al lupo per il lavoro sperando che presto tutti troviamo lavoro che questo covid maledetto che vada via ma si parla che c'è dalla quarta dose dalla terza alla quarta dose e andiamo avanti dopo la quarta quinta non si sa ancora tanto ma per favore non parliamo più di intubazione covid per favore riusciamo a stare ai medici che qualche hanno l'ora da fare purtroppo è questo boh altro che dire niente la bellissima giornata di sole no ma fredda ma si sta bene saluto la carissima Anna di Udine che mi ha mandato delle cose delle cose anche Rita Rita dell'Anna la carissima amica no Anna Rita Rita dell'Anna boh è altro che dire niente boh vi voglio bene buona domenica fate i bravi iscrivetevi al mio canale youtube vi raccomando iscrivetevi fino a trofina se questo tavolo sarà franco tronzo di scrivere mi piace il numero per scatola a me piacerebbe arrivare al minimo 100 persone non pretendo milioni perché non sono un youtuber professionista vorrei imparare un po' anche la lingua portoghese saluto l'amica Anna mi piace come farlo e un grande abbraccio a voi amici miei saluto i miei parenti e amici del mondo dell'America Latina all'Europa all'Asia al giro per il mondo buona giornata fate i bravi saluto Marco Trevita e tutti voi della chiesa marcelliana è quasi finita la diretta viene un bacione ciao saluto anche la mia sorella Dina che voglio bene e voi tutti mi raccomando fate i bravi non dì alle porte ciao a tutti un bacione un abbraccio ad Odoz un bacio un bacio dall'Italia dal nord-est Italia un bacio in particolare il quartiere Panzano sarebbe meglio Panzano Chianti ma sennò allegri un abbraccio e vi raccomando fate i bravi restate sani ciao saluto anche Dario Augusto IV scrivetevi sul canale suo che parla di olibenti ciao